Un'impressione a caldo di questa platea che hai avuto di fronte di ragazzi così nuova. Allora, sicuramente un'emozione bellissima, perché anche semplicemente aver stimolato l'applauso visivo, ovviamente mi ha dato molte più emozioni. È un bellissimo festival, vedere tanti giovani interessati, anche a tematiche così varie, credo anche sia molto importante e sono contenta di essere qua.